1917, URSS, fondata la CECA, antenata del KGB. 1989, il presidente George Bush invade Panama per rovesciare il governo Noriega. 1973, Madrid, attentato dell'ETA ai danni del primo ministro, Luis Carrero Blanco. Commenta il fatto del giorno Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Oggi vi parlo del drammatico caso di Pier Giorgio Welby.